31 luglio è giro di Boa per la stagione estiva dei saldi 2021, particolarmente attesi dopo una primavera difficile segnata ancora dalla pandemia. Partiti inizialmente bene anche a Vicenza, la spesa media secondo le associazioni di categoria era sotto i 200 euro pro capite. Ha visto poi una fase di rallentamento ed ora con la fine di luglio, il mese di agosto per Antonomasia dedicato alle ferie, è tempo di minimi lancio che in città vede i commercianti dividersi. Sono stati dei saldi molto molto a rilento, qui a Vicenza manca la cosa principale che è la gente, qui non c'è gente, non ci sono turisti, c'è pochissima gente che gira se non altro di giorno, di sera magari c'è più movimento, i bar probabilmente avranno più afflusso ma noi negozianti stiamo soffrendo molto rispetto agli altri anni, vedi proprio le differenze. Abbiamo una clientela abbastanza fedele e vedo che anche il turismo che adesso in questi giorni, in questo mese c'è stato ha risposto direvo dire abbastanza bene, a differenza dell'anno scorso l'estate che praticamente anche se c'erano i saldi, anche se c'erano gli sconti alti ma in cacci sono stati pochi. Direi che quest'anno rispetto all'anno scorso infinitamente meglio. Non è un turista che magari si ferma, va a fare acquisti nei negozi, quindi è diverso, magari anche le nostre clienti fidelizzate attendono già la nuova collezione. Non è che c'è stato un grandissimo boom dei saldi che magari alcuni si aspettavano, e ben sappiamo che durante l'anno delle promozioni ce ne sono, quindi la gente aspetta magari delle novità. I saldi ormai sono passate. Fine settimana di esodo, ma che a Vicenza quanto pare si è visto e sentito meno anche in termini di affari. Oggi in particolar modo si è fatto sentire un sabato abbastanza pieno di gente in centro finalmente, quindi magari anche forse un aiuto anche per la temperatura che non è proprio venta. Quindi dai, speriamo che sia un bel sabato, un bel weekend e speriamo anche i prossimi. Quindi si sta lavorando, si è lavorato? Si è lavorato, si è lavorato, poi ci sono anche dei turisti, quindi aiutano anche quelli.